E benvenuti in questo nuovo video, siamo qua, in questo video per andare un po' a parlare di fantacalcio perché si è giocata la ventesima giornata, ormai siamo nel pieno giorno di ritorno, stiamo andando verso la fine del campionato e arriva una bellissima vittoria, tra l'altro grafiche nuove, vedete ci stanno, meglio di quelle di prima che erano abbastanza classiche e detto questo, un bel 4-0, ho fatto il record di punti, 88 mai fatto quest'anno, veramente qualcosa di assurdo Barak che fa un qualcosa di straordinario e devo dire che sono contento, comunque ho fatto una vittoria importante anche per recuperare punti da lui che adesso è terzo e che con questa vittoria perde terreno rispetto alla mia squadra però, ad un po' a vedere nello specifico, lui addirittura fa 65 e mezzo, quindi neanche un gol con Montipò in porta che prende 3 e mezzo Jim City farà ogni 6, Demiral 6 e mezzo, Candreva 5 e mezzo, non gli giocao né Ilic né Malinovski, gli entrano così Caglion 6 e Miguel Veloso 6 e mezzo, Milinkovic li fa assist 8 e mezzo, poi Quagliarella, Muriel 6 e in attacco l'Italjeco 5 tra l'altro aveva anche Verdi in panchina ma sarebbe cambiato molto molto poco, proprio perché io faccio 88 veramente veramente una... dall'altro guarda l'ora è quando ho messo la formazione, vabbè, lasciamo stare e quindi 88 grande punteggio in virtù del 5 e mezzo di Vicario, che alla fine sta facendo bene i suoi 6 e mezzo li prende quasi ogni giornata, anche se poi il gol lo subisce sempre 6 Isai, 5 e mezzo Bremer, che viene ammonito, Biraghi che fa una doppietta assurda, prende 14 speriamo che adesso ha fatto questi due gol qui e non li fa mai più comunque sono credo di aver puntato su Biraghi perché sta facendo bene quest'anno però speriamo che adesso non si fermi qui, ecco che continui nel segnare, nel portarmi bonus 6 Svamberg, il discorso che facevo per Biraghi è uguale per Balak, che fa 3 gol, gol decisivo un assist, 20, veramente un punteggio assurdo da solo, praticamente ha vinto la partita e veramente molto molto bene Balak, speriamo però che dia continuità anche perché nelle ultime giornate Alvron non aveva praticamente mai giocato quindi non l'ho mai avuto ma adesso è tornato e tripletta e assist 6 Bairami che viene ammonito, 6 e mezzo Luis Alberto, 6 Bremer, 7 Nico Gonzalez e 5 e mezzo Abraham quindi alla fine un ottimo punteggio, una bella vittoria, convincente e quindi con questi 3 punti in classifica, salvo, anzi rimango al sesto posto in classifica ma come vedete ha 25 punti, ha meno 1 dal quinto posto che è il mio obiettivo e meno 3 dal quarto posto, quindi inizio anche ad avvicinarmi comunque anche alle posizioni più importanti certo che comunque come vedete molta discontinuità perché una vittoria, l'altra la pareggio, l'altra la perdo quindi il mio campionato è un po' discontinuo però diciamo che anche a livello di squadra sta andando bene perché se voi andate a vedere il punteggio totale sono in classifica il terzo poi sono uno dei più sfigati perché i gol subiti fanno riferimento a quelli che ti fanno gli avversari e quello non può dipendere assolutamente da te quindi lì veramente non posso farci niente però se non avessi sta sfiga qui o avessi il culo del primo sarei a questo punto quasi a giocarmela con i primi posti ma va bene così ci può stare anche perché gli ultimi anni ho sempre fatto bene, l'anno scorso ho vinto l'anno prima pure quindi va bene così e adesso poi tra l'altro tra poco ci sarà anche il mercato di riparazione vedremo un po' che cosa fare ma prossima giornata in cui affronterò tra l'altro l'ultima in classifica però comunque partita importante dove si cercherà come sempre di vincere la partita ma a questo punto io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi